Il documento unico di programmazione che il Consiglio Comunale di Pescara sarà chiamato a votare ha già sollevato numerose polemiche da parte dell'opposizione. Le critiche che si sono alzate dai banchi di PD e 5 Stelle sono svariate. La Giunta Masci è accusata di snobbare la questione dell'ecosostenibilità e quella della nuova Pescara, in soddisfazioni anche sul tema sicurezza, cavallo di battaglia delle forze di governo, che però sembrerebbero sbandierare l'argomento in campagna elettorale per poi proporre soluzioni pagliative inadeguate. Addirittura c'è chi sostiene che il DUP sia stato copiato da quello di Bologna. Noi stiamo soltanto integrando il DUP 2019 che varrà per i prossimi due mesi, quindi stiamo inserendo all'interno del DUP delle novità importanti che sono emerse in questi mesi di consigliatura, ma il dibattito è aperto e sarà aperto su tutti gli argomenti. Anzi, l'interesse mio è quello di portare proprio il dibattito in città su tematiche importanti. Uno dei temi destinati a far maggiormente discutere in quello che è il primo vero e proprio atto politico dell'Aggiunta Masci riguarda il futuro dell'area dell'ex COFA, dove dovrebbe essere trasferita la sede pescarese dell'Università d'Annunzio. Il segretario cittadino del PD, Moreno Di Pietrantonio, ha dichiarato che così facendo si perderanno 12 milioni di euro destinati alla riqualificazione delle aree di risulta. Sinceramente è paradossale che coloro che hanno amministrato cinque anni e che non sono riusciti a realizzare nulla sull'ex COFA, sull'area di risulta, sul Parco Nord, neanche a mettere i fiori in città, oggi discutano di un'amministrazione che in quattro mesi ha fatto forse di più di quello che loro hanno fatto in cinque anni, contestando l'area di risulta come se qualcuno avesse una bacchetta magica per cambiare le cose in quattro mesi. Sull'ex COFA stiamo parlando di un intervento interamente pubblico, evidentemente qualcuno ci vuole far realizzare case, residenze private per fare speculazioni, noi pensiamo che invece si debbano realizzare sull'area di risulta e sull'ex COFA interventi pubblici che migliorino la qualità della vita dei cittadini di Pescara.